Siamo e sentiamo ora come i grillini rispondono alle parole di Renzi, intanto i Verdi in piazza denunciano le europee non sono una partita soltanto a tre. Francesca Lagorio. Oggi Renzi ha detto è un derby tra la rabbia e la speranza, tra chi scommette sul fallimento dell'Italia e chi invece pensa che il paese ce la possa fare. È un derby tra le menzogne di Renzi e l'onestà e la verità del Movimento 5 Stelle, che porta avanti i progetti, sono gli stessi di cui aveva parlato prima della campagna elettorale, sono la difesa dalle piccole e medie imprese, sono l'apertura di fondi di garanzia appunto per le piccole e medie imprese, sono il taglio degli stipendi che si erano dichiarati prima dell'elezione e sono stati fatti. Che si alzino i toni in campagna elettorale fa capire Toninelli, vicepresidente 5 Stelle della Commissione Affari Costituzionali. Non è strano, difende il fotomontaggio postato da Grillo con il premier Renzi nei panni dell'ultra del Napoli, Genia Carogna e la maglietta con la scritta Silvio Libero.